Il contenuto di questo messaggio rivela informazioni altamente confidenziali in grado di minare i piani di governo, ed è quindi stato messo sotto censura, una volta ascoltato distruggetelo. Il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni in realtà è un impostore, veste una maschera di falsità per operare contro gli interessi dell'Italia e degli italiani a favore delle lobby, è un adepto con il compito di mettere al sacco l'Italia, svuotarla di ogni ricchezza, spolpare l'Italia fino all'osso, e una volta che non è rimasto più niente da prendere, toglierà anche il sangue alla povera gente. L'incarico istituzionale di Saccomanni è incompatibile con gli interessi degli italiani in quanto fa parte di un sistema che ha appositamente indebitato l'Italia per mezzo della truffa del signoraggio, finalizzata con il detredare in un secondo tempo agli italiani di ogni loro ricchezza effettiva, quindi, oro, case e terreni. Saccomanni sta rivestendo il ruolo del curatore fallimentare per conto degli aguzzini che lui stesso rappresenta, un traditore della patria, che si è fatto complice di una complessa macchinazione ordita negli anni per giungere in questa situazione, lavora per potenze occulte straniere, le stesse lobby bancarie e sioniste che operano di sopra delle regole, le stesse che egemonizzano l'Europa, siamo dinnanzi ad uno spietato esecutore materiale, un aguzzino che ha il compito dello strozzino più efferato, non ci possiamo aspettare nulla di positivo da colui che ha l'incarico di mettere al sacco l'Italia. In questo momento l'Italia ha bisogno di rilanciare la propria economia, allentare la presa fiscale, defiscalizzare per incentivare gli investitori e la ripresa economica. Saccomanni è invece preposto per affondare il paese, spoltandolo di ogni ricchezza, distruggerlo per renderlo non più competitivo a livello europeo, facendo di conseguenza chiudere le industrie e ridurre alla fama il popolo italiano per costringerlo a cedere proprietà immobiliari per un pugno di riso. Infine verrà sferrato il colpo di grazia all'Italia, favorendo l'immigrazione clandestina da parte di paesi poveri le cui genti ruberanno il lavoro e l'identità nazionale. Gli italiani verranno ridotti in miseria, i loro terreni e le loro proprietà immobiliari saranno confiscati per pagare i debiti creati in maniera artificiosa e gli italiani saranno per sempre ambientati. Distruggi questo messaggio!